Ecco come insegnare al proprio gatto a dipingere Vediamo le mie gatte come se le caperanno Iniziamo prendendo una tela bianca e sporgendoci a casacci i colori che preferiamo Tanti colori Dopodiché proteggiamo la tela in una busta chiusa e ricopriamola di pappa E adesso, ammirate i vostri gatti pittori all'opera Bravissima Kiba! Ma sei una super pittrice amore! Brava Kayla, dai una mano a Kiba! Ma sta diventando bellissimo questo quadro! Qualcosa mi dice che da oggi gli piacerebbe tantissimo dipingere Vediamo un po' che cosa avete creato! Ma è bellissimo! Grazie!